Eccomi di nuovo in vostra compagnia. Allora abbiamo vissuto questa euforia di questo annuncio da parte del leader della Lega Matteo Salvini che ha annunciato che scenderà in campo il 2 di giugno a Roma che tra l'altro sappiamo essere esattamente il programma che ha il generale Antonio Papalardo leader del movimento gilet arancioni. Ora sembra tutta una bella storia no? L'opposizione che ha deciso di scendere insieme al popolo che è stato chiamato raccolta ormai da parecchie settimane da parte del generale Antonio Papalardo che si sta facendo da molto tempo in lungo in largo tutta l'Italia per convincere il popolo a ribellarsi nei confronti di un governo abusivo. È un governo che sta dimostrando tutto il suo atteggiamento dittatoriale perché tra l'altro ha posto l'emergenza nel nostro paese fino al 31 di dicembre in buona sostanza per poter fare il bello e cattivo tempo per altri 7-8 mesi. Questa è la realtà. Ora però sorgono alcune domande. La prima domanda che mi faccio è questa. Io ho avuto modo ieri giusto di dirvi come il grande impegno del generale Papalardo dei gilet arancioni per portare in piazza il popolo fosse poi in fondo un'operazione anche ostacolata dalla stampa, dalle televisioni che chiaramente non avevano così tanta voglia di parlare di quanto stava per succedere e soprattutto non avevano proprio l'intenzione di appoggiare questa grande iniziativa. Ora è evidente che Matteo Salvini che è un uomo assolutamente intelligente si sarà fatto i suoi calcoli e credo che sia abbastanza evidente che una delle riflessioni che Matteo Salvini e probabilmente anche Giorgia Meloni si sono fatti era quello di rischiare che la piazza veniva portata via da qualcun altro e cioè appunto dal generale Antonio Papalardo. Perché adesso voi immaginate se realmente il generale, e ce l'auguriamo ancora chiaramente, fosse stato nella condizione di convogliare milioni di italiani a Roma, cosa sarebbe successo? Sicuramente per quanto riguarda il consenso della Lega ma anche dei fratelli d'Italia, la cosa poteva modificarsi nel corso dei mesi e sicuramente invece il generale giustamente sarebbe stato premiato per questa sua coraggiosa iniziativa. E chiaramente Matteo Salvini non poteva e non voleva correre questo rischio. E quindi non è assolutamente casuale il fatto che lui abbia deciso di fare la stessa, nello stesso giorno, cioè il 2 giugno, nel quale ha deciso di fare la manifestazione a Roma, il generale Papalardo, la sua manifestazione. Ma sapete qual è la prova di quello che io vi sto dicendo? Che Salvini, pur andando contro a quello che è il decreto che pone fino al 3 di giugno, cioè il giorno dopo il limite di circolazione fra le regioni, disattendendo questa direttiva, lui ha deciso il 2 giugno di fare la manifestazione, perché non poteva rischiare di farla dopo, dopo il 2 giugno, perché a quel punto il generale ne sarebbe già uscito vincitore. Questa è la strategia, secondo il mio modestissimo parere, da parte di Matteo Salvini e dell'opposizione. Ora, il generale è stato meraviglioso nella sua risposta, strategicamente perfetto, non si è assolutamente scomposto, ha detto va benissimo, finalmente l'avete capita, finalmente state al mio fianco e scenderete in piazza insieme a noi. In qualche modo li sta facendo capire che forse è tardi, forse la piazza o almeno una parte della piazza ormai è in mano al generale Antonio Papalardo. Questa è la mia modestissima riflessione. Voglio vedere voi cosa ne pensate. Con questo vi saluto e ci vediamo domani.